...ai neofascisti per commemorare i giacostini della Repubblica Fusuale Italiana. Noi pensiamo che in questa giornata gli annagrati, soprattutto tutta la città, che mai è solida di un'opera prima della cittadina. Se la città non debba essere militarizzata come te, non è passata. E come andrebbe non esistirare se è passata. Noi abbiamo deciso come coordinamento di società di tenere Piazza Gramsci con tutta la tranquillità e la serenità. Perché in questa giornata pensiamo che per noi ci possa essere il posto, e noi siamo nel giusto posto, mentre per altre persone, per altri personaggi, non si può essere nemmeno un centimilo quadrato. E quindi invitiamo ancora tutte e tutti a stare in piazza, a portare il cibo da casa, a portare il tampio di ogni attenzione. e a portare il cibo da casa, a portare la scuola e di occupare Piazza Gramsci. e a portare la scuola, a portare la scuola e di occupare la scuola, a portare la scuola e la scuola e per altri personaggi. Grazie.